sentiamo adesso riccardo che vi presenterà l'associazione di giovani il nome lo diciamo subito dopo perché lasciamo un po di suspense i giovani dove sono i giovani dove sono i giovani ecco vedo anche vedo anche i sessantenni che sbracciano perché siamo tutti giovani i giovani sono il nostro futuro e perciò è importante vedere anche loro all'opera chi se non noi giovani ha risentito di più delle libertà negate durante questo periodo di pandemia chi se non noi giovani ha risentito di più delle restrizioni imposte dalla confederazione svizzera durante questo periodo il movimento giovanile svizzero maspol è un movimento che si oppone alle restrizioni forzate e imposte dalla confederazione svizzera noi in svizzera siamo fortunati abbiamo una costituzione federale purtroppo negli ultimi due anni molti dei diritti in questa costituzione sono andati scemando maspol si batte per avere tutti i nostri diritti presenti nella costituzione affinché possiamo vivere di nuovo in pace liberi e noi giovani del maspol ci battiamo a favore della libertà di tutti per una società dove non ci siano discriminazioni per i non vaccinati ci opponiamo dunque all'obbligo vaccinale e alle pressioni sulle persone non ancora vaccinate perché ognuno ha il diritto di scegliere che cosa fare con il proprio corpo chi voleva vaccinarsi è stato vaccinato ora basta fare pressione sugli altre persone noi giovani del maspol ci opponiamo alla creazione di due classi sociali i vaccinati e non vaccinati dove uno ha molti più privilegi che l'altro infatti il certificato covi non fa altro che discriminare le persone non vaccinate ed evidenzia le differenze tra la popolazione siamo tutti esseri umani dopo tutto pertanto noi giovani del maspol vi invitiamo a votare no il prossimo 28 novembre il maspol ha introdotto anche le violette zone le zone viola dove ognuno può andarci senza essere sottoposto al tampone al vaccino del covi e ci si sente liberi e felici in questi incontri noi accettiamo tutte le persone con le loro scelte non facciamo discriminazioni inoltre maspol promuove gli incontri tra le persone sentendosi liberi e felici maspol è stato creato per riavere tutti i diritti presenti nella costituzione federale e si batterà fino a quando questi diritti non vengano nuovamente rispettati viva la libertà 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 Grazie a tutti